Musica Bentornati all'appuntamento con le previsioni di MeteoOne. Peggiorano le condizioni meteorologiche su tutta la nostra penisola, con l'arrivo di area più fredda dovuto a una circolazione depressionaria sui nostri mari. Peggioramento che sarà sensibile sul centro nord con piogge estise e di forte intensità. La depressione si posizionerà nei pressi della Sardegna e spingerà notevoli quantità di aria umida e instabile, che poi si tradurrà in una cospicua quantità di pioggia sulle regioni che si affacciano sul Tirreno. Nel contempo, il vortice ciclonico favorirà l'afflusso di aria più fredda dalla Francia, che gradualmente farà calare le temperature su tutta la nostra penisola. Ma ora andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni, per domenica 5 febbraio. Al mattino cielo parzialmente nuvoloso su entrambe le regioni, nubi più compatte sulla Basilicata Occidentale, dove il cielo tenderà ad essere nuvoloso. Durante il corso della giornata, qualche pioggia potrebbe interessare il lato tirrenico della Basilicata. Altrove, invece, permarranno condizioni stazionare con la presenza di nubi alte, ma senza fenomeni. In serata insisterà la nuvolosità sulla Basilicata Occidentale, con il rischio di qualche pioggia. Venti moderati dai quadranti sud-occidentali, mari da molto mossi, lo Ionio, e il Tirrino, poco mosso, l'Adriatico. Temperature che, come possiamo vedere dalla grafica, subiranno una lieve flessione di 1-2 gradi. Ed ora ecco la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Antonio Nicoli per questo suggestivo paesaggio di un laghetto merlato da rocce di Baxite, nei pressi di Otranto e illuminato dai primi raggi del mattino. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Mete One e Teleappula, o alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie.